Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Pixaman, 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 Pixaman Già sono rimasto senza voce ragazzi, incredibile, sto anche senza l'attrezzatura, te aspettate, si stiamo tutto aspettate Torno subito Ok, riesolo, mamma mia, ho messo tutta l'attrezzatura, tutto, tutto, pop, 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 filterante ragazzi Adesso non farò più casino col microfono, almeno spero E ragazzi, la nuova settimana è iniziata, il limite del livello non c'è più, posso expare, posso andare fino al 40 se non sbaglio, non volete una cazzata Il problema è arrivarci al 40 Quindi ragazzi, tutte le nostre avventure saranno expaggio, 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 expaggio e expaggio E ancora un po' di expaggio, tanto per arrotondare la cosa Quindi experemo ancora un più dopo aver expato E andremo pure un po' a expare, perché almeno experemo un pochetto, eh, che ne dite? Almeno così expiamo e una volta expato abbiamo expato E quindi a posto GG Nice Allora, siamo ancora a livello 30, quindi perché arriviamo al 40 ci vorrà una scienza E io mi metto con comodo qui, andiamo a pesca Andiamo a bel carvana, magari a livello 87, così, no, 22, vabbè, si accontentamo, vai Ma tutti al 22, carvana, sbaglio? Io non ho già incontrato un'altra al 22 Boh, morto 618 exp, not bad Oh, golden all 11 Vai, lo ammazzo con bracere, non mi ha rage Ah, non mi faccio cazzo Rage Morto, morto Magikarp al 18, vai Quanti pipì c'ha volto in testa? 15 Rage Non mi ha fatto molto, eh Ho stato splash Cazzo, adesso morirò No, è morto lui C'ho creduto, c'ho creduto, c'ho creduto, c'ho creduto Vai, prossimo, chi è? Chi è il prossimo che vuole schiettare? Magikarp al 14? Vai Rage Marto, non è vero Adesso uso bracere Marto, uso ammazzanti, poi come andai qua con le mostre tipo fuoco, ragazzi C'ha veramente la tristezza Mi danno 50 exp, mamma mia, non sarà mica troppa Cazzo Mamma mia, alla fine del mondo Eh, vediamo se trovo qualcos'altro in giro, qualche cosa di carino, magari a livello un po' più alto Tipo sto radicata al 29 che mi ispira a botte in testa St'evoluzione mi gusta, ragazzi Mi gusta perché è salito di molto il danno Vedo il danno che Sento Magnemite Rage Vai Non fa un cazzo Non fa un cazzo Ci muoio, ci muoio 1004, bam, 31 Mamma mia Quanta exp Ho sentito Magnemite, ragazzi, io l'ho sentito, sto sicuro Eccolo L'ho visto No, dove era? L'ho inquadrato Eccolo Mamma mia, mamma mia Livello 11 Speriamo che mi troppa il ferro Quello che voglio Braciare No, soldi e ferro manco per il cazzo Eh, ti pareva Eh, vabbè Vediamo se troviamo qualcun altro Magnemite Servita un cazzo Più che altro non vorrei allontanarmi troppo dal Pokémon Center Perché sto sicuro che fra poco dovrò tornarci Perché ecco, adesso sfido sto radicata Il Pokémon mi schiatta e dovrò tornare indietro Guardate, guardate, eh Io già prevedo il futuro Vai, sta al 26 Questo mi fa proprio Mmm, i cosiddetti Sfracella dei botte Eh, Pokémon Chi mando? Chi mando? Marshtomp? Facciamo evolve sto Marshtomp, ragazzi Se evolve farà pochissimo Vai, Marshtomp Usa Mood Bomb Dovrebbe essere super efficace Non vorrei dire una cazzata Perché è tipo terra Su normale Non manco per il cazzo Che cazzo d'attacco ha usato? Oh, ha usato? Boh, vabbè È morto L'importante è che è morto È a posto Schiattato Che cosa è quella roba là? Che cosa è quella roba là? Cosa vedo nei miei occhi storditi? Che è sto coso? E che cazzo è che ha fatto una cazzata del genere? Oh, le bacche, oh Vabbè, lasciamo ieri le bacche Vediamo un po' se qua dentro Eeeh Eeeh Guarda la roba che c'è qui dentro Guarda la roba Guarda la roba Eeeh È questo? Oro Non grazie Troppo gentile Vediamo se qui trovo qualcos'altro Oh, si sale qui Ok, sono salito Non c'è un cavolo, saliamo ancora più solo Madonna che scala è brutta Ma chi è che ha fatto se scala? C'è bisogno di un designer, seriamente Guarda, le scesse, questa è bloccata No, questa è bloccata Non posso prenderla perché altrimenti grifo Oh, un head Come prendo? I funghi non mi servono La pistolassi nemmeno Qui abbiamo Underpearl Niente di utile, tutto schifo Ho fatto tutto schifo, però queste Queste nere cotte Mi ispirano E questa non la posso aprire perché è bloccata Vente le fornace, vediamo un po' C'è verdi cotte, rosa cotte, bianche cotte Rosse cotte Un cavolo, rosse cotte, giusto un po' di carbone Ragazzi, io mi frego il carbone, sono proprio una cattone Da fregare il carbone agli altri Mamma mia roba, se perdo tutto il carbone mi sta proprio bene Perché me la merito tutta, perché sono un pezzo di me Che cosa, tutto mio il carbone, via Pussa via, questa è casa mia adesso Ok, Firestone Shale Qualche tolgo da qua dentro che mi intasa tutto il pesce Vai Ho l'inventario pieno ragazzi, ho gli zeniti pieni Devo craftarmi in un altro Andiamo a vedere nel piano sotto Perché se non sbaglio quando sono entrato c'era un piano sotto Che non ho visitato Andiamo a vedere Andiamo a osservare sotto cosa ci potrebbe mai essere Oddio, sbaglio Ah no, ok, sbaglio Ah, l'entrata della miniera Coatto qui Coattissimo Te dico proprio fermo Ok, me ne torno su Ok, ho scoperto questa casa ragazzi Non so di chi è, sinceramente Comunque ragazzi, ringrazio per tutti i commenti Sto leggendo tutto ragazzi Tutte le info che mi date riguardo a questo gioco Sono veramente molto interessanti Anche questo carbone Molto interessante E ragazzi, vediamo un po' se trovo un giro Non so se posso prenderlo questo Ok, dicevo Ringrazio per tutti i commenti Ragazzi, non riesco a rispondere a tutti Giuro, è veramente improponibile Sto provando Mi arrivano commenti da tutte le parti C'è anche i video vecchissimi Che ho già fatto a tempo fa Mi arrivano altri commenti E quando li aprono non ci capisco Cazzo È tutto un casino di commenti ragazzi Vi ringrazio comunque Tutti i like, i commenti GG, grazie a tutti GG, vi voglio bene E mi è morto pancetta Porca puttana Vabbè G8 Attacco rapido Morto Ok Torniamo verso il Pokemon Center Ragazzi, lì dentro c'è un healer Ma non lo uso Perché altrimenti i bambini piangono Che è vietato dalle regole Anche se non è vietato Però devono piangere per forza Non resistono E andiamo lì Al PPC Al Pokemon Center Oh Cazzo Oh Magneton Marshtop Vai Tuo, tuo, tuo Vai Bella expo Questo è lo one shot Vai Magneton 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 Good bomb Vai Come? Ha fallito Che schifo che fai Dai uccidilo One shotato Livello 32 Nice 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 A che livello si evolve? Non è la 32 Quindi è il 36 È il 34 È il 36 Acqua Acqua volante Cioè prende 4 per da tuono Porca trota Oh cazzo Porca trota Strike E vabbè Sì comunque Cazzo 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 Volante e acqua Che cosa brutta Ragazzi Mi sa che il gare Questo lo rimpiazzo È bello Da dire Oh buono Però mi sa che lo rimpiazzo Più che altro Ho pochi Pokemon ragazzi Non c'ho proprio spazio Ah tolgo PG8 Ok ragazzi Non espo più PG8 Mi spiace ma PG8 È fuori dal team PG8 Sei fuori Sei eliminato Ok andiamo a vedere Se becco qualcosa Altro da uccidere Facciamoci un bel giretto Comunque ragazzi Quando sentite queste specie Di scricchioli Tipo questo Non è una scureggia Tranquilli È la mia assedia Mi sono perso una vite E ogni volta che mi muovo fa È tipo troppo epico Vai Vai gare Scontro ikans Vai Arzo A te è bello sto gare Sto rosso È proprio epicissimo Mamma mia Vediamo se qui c'era anche Un coso Cosa Cosa è quel cosettino Minuscolo Un cottoni Un brutto un cottoni Grazie a te Pokemon Non hai mai visto C'era un hardbox qui Però è sparito Ma se continuo a farmi un giretto Qui nella giungla Magari trovo qualcosa Cos'è quella? Stone Ok Niente di che Cos'è qui? Oh vero Ma che carino che sei Vai mancetta Spaccalo Spaccalo Bracere Super efficace Non mi fai un cazzo Botto in testa Fa più male Praticamente Mi stai dire Sì Botto in testa ragazzi Fa più male Di bracere Oh mio dio Ok Va bene Adesso Oh Che carino 34 Bella Tanta exp Botto in testa Tanto uso solo questa Cioè bracere è inutile È fortissimo Chi gli mando? Aspetta contro un'acqua Gli mando Chi cazzo mando contro un'acqua? Ecco vedi raga Non c'ho niente da mandare contro l'acqua Devo cambiare pg8 ragazzi Devo prendere un pokemon tuono Ovviamente il mio pokemon tuono preferito Sapete qual è ovviamente Non serve che ve lo dico ogni volta E adesso andiamo a cercarlo Andiamo a cercarlo Sappiamo dove è una pianura Noi per caso? No Non abbiamo mai trovato una pianura Raga L'obiettivo è trovare una pianura Tanta Tanta Andiamo alla ricerca della pianura Metang livello 31 Ragazzi Oh mio dio Ci avviciniamo all'evoluzione Sempre di più Al 31 Al 31 Guido Via Vediamo un po' se troviamo qualcosa qui Comunque ragazzi Scusate se magari i video questi giorni Stanno uscendo un po' a ritardo Ma durante il fine settimana È sempre così ragazzi Nel fine settimana Sono sempre impegnatissimo E trovo i metapod livello 7 Che mi fanno spaventare In realtà fanno schifo al cazzo Guarda dettagli E comunque dicevo Nel fine settimana ragazzi Sono molto impegnato Quindi non vi assicuro Che il fine settimana Escano tutti i video E tutti in orario Ecco solo quella cosa Comunque ieri non so come Sono riuscito a farli uscire tutti E purtroppo mi dispiace Per l'ultimo episodio Che è finito Pommaluccio Peravo cazzo Stavo per cadere di sotto Fa tutta la cosa per salire Stavo per riscendere Giù Dei fili Ci sono dei fili per terra Ok Eh sì dicevo Tutta quella fatica Per andare sulla stazione spaziale E alla fine Non cazzo niente Che cazzo è Qui vabbè Ogni volta esce fuori Una cosa strana Assurda Ma che cazzo è Qui Ma che cazzo è Sì vabbè Guarda questi che hanno fatto Ah ma qui dove stavo prima Ah ma sto andando verso casa Eh ma una cascata Ma cosa No No chi è quello No chi è sto disturbato Che ha fatto sta cosa No sinceramente a me non piace Ragazzi Non so a voi Ma è orribile e inguardabile Dove è andato mancella Oh Ah ok Livello 16 Vai No Vai Ok Notare che il mio preferito Attualmente è pancetta Cioè sto usando quasi sempre pancetta Cazzo Ehm Bracere Eh 316 exp Not bad Oh ratata 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 Livello 10 Schifo Livello 10 Devo cercare evoluzioni di livello buono Non altissimo Vediamo se becco qualche cosa di figo da ste parti Mmm Vedo un cavolo Mamma mia Ma sti pokemon sono tutti schiattati io Pokemon Tan 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 Pokemon Venite a me Non c'è nessuno Pokemon Pokemon Venite qui Pokemon Cazzo a voi Chi non ve lo dice Raga ma lo vedete anche voi che è deserto So io quello scemo No perché non riesco a comprendere Cioè non c'è nessun pokemon No ci dovrei Ecco ho trovato quello che mi serviva Di guzzly Proprio uno spam di guzzly Proprio utilissimi guarda Io non li faccio niente perché sono tipo spettro Bot in testa immune Vabbè Ok vediamo un po' Qui c'è un altro spettro Oh Magikarps Livello 12 15 16 Carvana 12 Mamma mia ragazzi Ma nemmeno li attacco Cioè non c'è proprio motivo Cioè perdo più tempo a attaccare lì Che a cercare un altro pokemon Guarda Andiamo avanti Oh finalmente qui in extreme hills Qualcosa si trova Però io devo andare in pianura ragazzi Quindi Faccio tipo Corsetta Duelli Corsetta duelli Corsetta duelli Questo tipo è 14 Vai va Vai va Ho capito Va Bot in testa Che cazzo è successo Dio quanto male io ho fatto Oh pancetta Non morire Ah ecco Bravo 150 exp Mamma mia Adesso è spregato Questo è 18 Dai qualcosa mi dà Qualcosa mi dà Bot in testa Eh 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 Vai Vai Rage Bella 32 400 Rage Respiro di drago Drago Spiro C'è una mossa tipo drago Non ci credo mai Adesso sono Posso essere super efficace Contro un altro drago Cazzo 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 Ci voleva Ci voleva Ci voleva Posso essere super efficace Contro un altro drago E in più Io sono tipo drago Quindi faccio tanto male Aspetta aspetta Ho fatto la cazzata Questo mi ammazza tutti Ho finito di giocare ragazzi Il mio episodio Finisce qui Guardate che male Che mi fa adesso questo Ancora Drago spiro vai Aia Malissimo 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 Ancora Oddio Morto 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 Chi mando adesso Chi mando Eh mandiamo pigiotto a morire Almeno fa un po' di danno e muore Eh gusto Adesso mi faccio un ca Ma è imploso proprio Attacco rapido Giusto per fare danno Vai 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 Mori Morto Ok mandiamo Chi mando Larvesta Può tanto morire anche lui Eh Takedown Vai Tutta via la voglienza Che poi Morto Oh ma l'ho shottato Oh mio dio Non ci credo mai Marshtop Questo è il mio orgoglio Marshtop Sei il mio orgoglio Spaccalo di botte Moose bomb Eh eh Ne 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 L'hai quasi ucciso Ne 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 Vai le uccidi Ammissato Non ci credo mai No non ci credo Ammissato Vai caritos Ira di drago Sì L'ho ucciso 7951 Exp Oh mio dio Oh mio dio Livello 28 Livello 29 Twister No due mosse drago Oh figata L'ho metto al posto di azione Livello 30 Cazzo ho fatto livello 30 3 livelli Oh mio dio 3 livelli con pokemon ragazzi Però Però mi ha sterminato mezza squadra Notare che mi ha sterminato mezza squadra E in più non ho trovato un pokemon center Quindi adesso me lo pio un po' Nel In quel buco che tutti conosci Insomma quello che siamo per andare al bagno Nel Ok Vediamo un po' se qui becco Oh un allenatore 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 Mio 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 Livello 22 Azzo 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 Vai vai Me lo faccio Me lo faccio Me lo faccio Ci sto Ci sto Vai Geridos Vai Geridos Stocca a te Dimostra ciò che sai fare Camerupt Vai Twister Mi ha fatto un ca... È super efficace? Cosa è super efficace? Ah It wasn't very effective Ok Mi spiegate perché Mi spiegate perché Bite ha fatto un danno disumano E No no Sono confuso con le mosse Morso Vai Dai Weezing Weezing Muori Ira di Drago Bella Bella Geridos Al 31 Un altro Weezing Ira di Drago Ancora vai Azzo 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 Ammissato Bella Morso Mamma mia Sto Geridos Che potenza Koffing Che schifo Vai Ira di Drago Ma non muore? Muori Male 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 Ma va avvelenato Ma va avvelenato Ma va avvelenato Ma uccide anche a me Cazzo son morto di veleno Cazzo son morto di veleno Grow Light Zen Hadvat Oddio che male Che male che io ho fatto In seguimento E Grow Light Schiatta E io vinco E io vinco 20 dollari Mamma mia Ragazzi sto facendo i big money Allenando Un altro allenatore No Ah si è un allenatore Oh mio dio Dov'è? Aspetta No è sparito Allenatore No mi sono girato un attimo A pezzo di zero Oh eccolo lì Eccolo lì Eccolo lì ragazzi Che livello è? Eh 32 troppo alto Non ce la faccio Poi è un pescatore del cavolo Vabbè ragazzi Ragazzi per questo video è tutto Ci vediamo nel prossimo video In cui andrò a cercare una pianura Che penso di aver già trovato Sembra una pianura quella No sempre estremile Vabbè ragazzi Andrò a cercare una bella pianura Dove sicuramente troverò un centro pokemon Dove curerò i miei pokemon Sinceramente spero di trovarlo Perché sinceramente Sono un po' Sono un po' nella cacchetta Sì mi serve un centro pokemon Assolutamente ragazzi Quindi mi raccomando Spoliciate se vi è piaciuto Questa sessione di expaggio E le prossime sessioni Saranno tutte expaggio e avventura Nel mondo dei pixelmon E ovviamente Devo rimediare un volante Al più presto Perché mi sono rotto il cazzo Di camminare come un idiota Ragazzi ci vediamo nel prossimo video Mi raccomando spoliciate E non perdetevi le prossime serie Carvan Vabbè Ragazzi ciao a tutti Al prossimo video